Che piazza! E' una battuta, non vorrei mai venga interpretata! Hai una battuta? E' solo una battuta, si si! Ma per me qualche uso lo fa! Ovviamente si scherza grande Luciano, perché è un personaggio particolare! Mentre Alex Rivolta, appunto l'ultimo dei romantici, così come lo chiamo io oramai il romanticone dell'orchestra Alex Rivolta, bacione anche Erika! Ci manca Erika oggi! Erika oggi non sta tanto bene, però la prossima volta recupereremo! Recupererà, recupererà! Anzi, penso proprio sia a casa che ci ascolta in questo momento! Ciao Erika! Io volevo fare davvero un appunto, ogni volta che vengo qui a Voci in Piazza devo essere davvero sincero, mi sembra di essere un po' a casa mia perché Sabrina con anche Matteo sono delle grandissime persone! Noi ridiamo! Oltre dei grandi professionisti ti mettono proprio a tuo agio, quindi mi sento proprio bene! E poi devo dire la verità anche ai ragazzi, i cameraman piuttosto che i registi, tutti i ragazzi che operano qui lavorano veramente con molta professionalità e molta serietà, sì è vero! Anche l'Antonio che è quello che dai tempi ci sgrida! Anche i personaggi, anche i personaggi selezionati sono sempre super, le orchestre bravissime! Mamma mia, quanti complimenti! No, tutto veramente meritato perché non capita spesso di trovarsi davvero così a proprio agio nelle trasmissioni! Che è quello che poi tra l'altro, adesso al di là di tutto, grazie, grazie tanto! No, no, onestamente verità! Quello che io dico sempre al nostro pubblico e ringrazierò sempre il pubblico sia che a casa, che ovviamente percepisce questa situazione nostra qua in studio, io dico sempre al nostro pubblico invece qua in studio che veramente abbiamo costruito una grande famiglia! Vero? Eh? Siamo sempre noi, ci divertiamo, sorridiamo, i trenini, va bene sempre tutto! E quindi è questo che vogliamo poi alla fine far percepire, far trasparare, come si dice? Trasparire, trasparire! Deve trasparire! Trasparire! Alla nostro pubblico da casa! Vero, è vero, è una situazione molto familiare! E voglio un sacco di vedi! Senti Alex, questo brano invece? Rose spine perché... Le rose? Ti è mai capitato di amare una persona e non essere corrisposta? No, mai! Ecco, vedi a me invece sì! Ovvio, scusami! Ovvio! Ecco, diciamo quindi sono tutte rose ma anche spine, quindi è una lotta, è una lotta, è veramente una lotta, te lo giuro! Ma poi lottare, lottare alla fine una può anche cedere! No, sono sempre rose spine continuamente! Alex rivolta rose e spine! Non c'è riposo nell'anima mia, è sempre guerra anche quando è pace! Non hanno senso più le tue incertezze! Io lotto contro il tempo ma tu contro di me! E questo tu lo sai e mi fa rabbia! Ma vincerò di certo la battaglia, questa sera noi saremo soli, viviamo tutto quello che sarà! Conquisterò il tuo corpo ma certo non il cuore, io uomo così forte ma devole con te! Mi piegherò nel vento, mi ferirò le mani, mi aggrappo a questa vita che vivo senza te! Sono lacrime di gioia! Sono lacrime di gioia, ma il gusto è sempre amaro e questa mia sconfitta la dedico anche a te! Se penso a te mi sembra di impazzire, sono sempre rose spine dentro me! Lo sguardo mio che ferma il tuo riflesso, le nostre ombre attimi di guida! Che cosa sarei io senza l'amore, un giocatore senza la sua partita? La gioventù si specchia nei tuoi occhi, sono attimi di tempo senza fine! Goccia di vita ai baci che mi dai, ti prego ridammi la serenità! Conquisterò il tuo corpo ma certo non il cuore, io uomo così forte ma devole con te! Mi piegherò nel vento, mi ferirò le mani, mi aggrappo a questa vita che vivo senza te! Sono lacrime di gioia, ma il gusto è sempre amaro e questa mia sconfitta la dedico anche a te! Se penso a te mi sembra di impazzire, sono sempre rose spine dentro me! Conquisterò il tuo corpo ma certo non il cuore, e questa mia sconfitta la dedico anche a te! Se penso a te mi sembra di impazzire, sono sempre rose spine dentro me! Se penso a te mi sembra di morire, sono sempre rose spine dentro me! Se penso a te mi sembra di impazzire, sono sempre rose spine dentro me! Alex rivolta, rose spine, un innamorato non corrisposto! Ovviamente così come la canzone, grande Alex, grazie! Allora io a questo punto... Kart Piazza